Dunque, una domanda che mi è stata rivolta e che penso sia degna di nota è per qual motivo nel cristianesimo c'è la celebrazione di ciò che è piccolo rispetto a ciò che è grande, anzi a un certo punto si può dire che chi è veramente grande è colui che è piccolo, ma potrebbe essere una cosa paradossale, in realtà è la cosa più realistica e metafisicamente vorrei dire fondamentale, tanto ad avere un riflesso nell'ordine morale, nell'ordine spiritualità di primaria importanza, questo perché? Perché quando ne pensiamo il grande e il piccolo, ne pensiamo sempre in opposizione tra loro, allora vediamo un po' così, un grande che cacciasse il piccolo sarebbe ancora grande? Difficile? Prendi il 10, il 10 è più grande di 5, se il 10 cacciasse il 5 sarebbe ancora 10? No, quindi il grande ha custodia del piccolo, però attenzione non è soltanto che il grande ha custodia del piccolo come il 10 ha custodia del 5, è che il 10 è nascosto nel 5, come mai? Facilissimo capirlo, 5 per essere 5 deve avere un significato di base, tanto che se dico 5 più 5 fa 10, 5 più 2 fa 7, sto ragionando in base decimale, il che significa che 5 per essere 5 e l'origine queste sommatorie, divisioni eccetera, deve essere permeato tutto dal 10, quindi il 10 è custode del 5, ma nello stesso tempo il 5 porta dentro di sé nel proprio nascondimento il 10, questo è il motivo per il quale se il 10 è il maestro e il 5 il discepolo, e certamente il discepolo è piccolo, ma il maestro non può cacciare il discepolo perché magis stat, sta come il maggiore, se toglie il minore non è più maggiore, ma nello stesso tempo proprio per essere maggiore deve essere nell'intimità di ciò che è piccolo del minore, quindi lo prende in custodia, il discepolato è proprio questo, e questa custodia è per via di un certo contagio, contagio fa sì che il maestro faccia diventare maestro anche il discepolo e quindi il gioco è fatto, ma si può pensare anche su un piano più metafisico, se prendi il tutto e prendo la parte, il tutto è superiore alla parte, però attenzione il tutto non è separabile dalla parte, già nel vocabolario quando noi diciamo c'è il tutto e c'è la parte, vedi che faccio questo gesto, c'è il tutto e c'è la parte, e questo tutto e questa parte sembrano essere due parti di un tutto ancora maggiore, quindi non si deve separare il tutto e la parte, si deve dire il tutto di ogni parte e la parte ogni parte del tutto, anche in questo caso il tutto per essere tutto deve permeare la parte e quindi deve essere completamente dentro ciò che è piccolo, questo vuol dire che nella vita cristiana bisogna privilegiare il piccolo perché il piccolo porta nascosto in sé veramente ciò che è grande, del resto quando si dice che i piccoli sono destinatari perché così piace al padre della rivelazione di Dio, io mi sono fatto un po' questa idea, il piccolo sarebbe il bambino, il bambino non è che stia tanto a ragionare dove non c'è bisogno di ragionare, si può ragionare dove c'è la possibilità di dominare, ma dove non c'è la possibilità di dominare non si può ragionare, ci si deve soltanto affidare, quando uno ragiona parte dai principi, i principi se si chiamano principi sono loro a dominare te, non sei tu che domini loro, quindi per poter ragionare sulla base dei principi ci si deve affidare ai principi, ci si deve affidare al principio e Cristo è il principio, ma se Cristo è il principio tu devi affidarti ai principi e questo affidamento è tipico di colui che è fanciullo, se uno non è come un fanciullo non può entrare nel principio e quindi non può mettersi a ragionare, prima di tutto deve affidarsi, dicevo anche sul piano della spiritualità, vabbè questo è bellissimo, spiritualità nel senso che andiamo a toccare un pochino quello che è l'attività anche della ragione, Aristotele distingue due tipi di argomentazione, l'argomentazione che i latini poi chiameranno propter quid che vuol dire sapere perché le cose stanno così, è un'altra argomentazione che si dice qui a sapere che le cose stanno così, un conte è sapere perché stanno così, un conte è sapere che stanno così, che differenza c'è? quando io so perché le cose stanno così vuol dire che io le sto dominando, quando io invece so che le cose stanno così ma non so dire perché non le sto dominando però sono immerso nel loro sentire, nella vera comprensione che è fatta di medesimezza, ora rispetto all'assoluto che è Dio si può essere in un'argomentazione propter quid, cioè in un'argomentazione per cui noi sappiamo perché le cose stanno così, impossibile, perché dovremmo dominare Dio, Dio è l'assoluto, oltre all'assoluto non si può andare quindi non ha causa, non ha perché, è senza perché, rispetto all'assoluto l'unica possibilità argomentativa è quella di accontentarsi di un sapere che le cose stanno così ma non perché stanno così, spiritualmente parlando provi a immaginare se alla persona che ami e alla sua domanda perché mi ami tu fossi capace di dire una risposta oggettiva, io ti amo per quel motivo e se il motivo cambiasse e non ci fosse più non l'ameresti più, che figura! Dunque alla domanda perché mi ami si risponde io non so perché, so soltanto che ti amo, basta